Domenica perfetta per la Cireale, che grazie alla vittoria per 1-0 su Rosolini e alle sconfitte di Sicula Leonzio, Sporting Taormina e soprattutto della capolista Igea Virtus è tornata al secondo posto della classifica, riducendo a 5 i punti di distacco dalla vetta. Nel ventitresimo turno del campionato di eccellenza, gli uomini di Raciti hanno avuto la meglio su Rosolini, grazie al rigore realizzato dal numero 9 Granata Continuo, dopo una gara in cui i padroni di casa non hanno però brillato per qualità del gioco e occasioni da rete create. Lo spettacolo d'altro canto non è stato incentivato da un Rosolini presentatosi al Tupparello con una tattica estremamente difensiva, votata a un quasi esclusivo contenimento e affidata a sporadiche ripartenze. L'organizzazione della squadra di Trombatore ha imbrigliato la Cireale, dando vita a una prima frazione di gioco da Sbadigli. La musica è parzialmente cambiata con l'ingresso di Cocimano per Conti, che ha dato vivacità a una manovra sin troppo sterile. Al 62esimo, proprio su ispirazione di Cocimano, Mille si è stato steso in area dal difensore ospite novembre, poi espulso. L'arbitro ha indicato il dischetto, con continuo freddo realizzare dagli 11 metri. Il nono gol del bomber Granata ha messo in ghiaccio una partita che non ha più visto grandi sussulti. Se la sconfitta della scorsa settimana di Taormina sembrava aver fatto calare il sipario sulle speranze di promozione diretta, per la Cireale si aprono adesso nuove ispiraglie e prospettive, a patto che i Granata riescono ad essere finalmente decisivi nelle sfide di vertice. Domenica Amara per il Giarra, che nel turno casalingo contro lo Sport in Via Grande ha nettamente ceduto per due reti a zero. Brutta involuzione degli uomini di Mancuso, mai realmente entrato in partita, contro un avversario più motivato e ancora invischiato nella lotta per evitare i play-out. Orfani di Cordime e De Girolamo, con quest'ultimo che ha rescisso il contratto, i gialloglu si sono presentati in campo con la novità Nirelli, a supporto dell'unica punta a Leo, e il fantasista ha trovato dirottato sulla fascia sinistra. Sin dalle prime battute di gioco, lo Sport in Via Grande ha mostrato di essere in giornata positiva, schiacciando il Giarra nella propria area. Il meritato vantaggio degli ospiti è giunto al ventitresimo, grazie al rigore di Scapellato, assegnato per l'atterramento di Costa da parte di Curcuruto. I gialloglu hanno abbozzato una reazione, facendosi vivi con Munafo e da Leo. Neanche gli ingressi nella ripresa di Scariolo e Miraglia, però, hanno invertito la tendenza. Dopo il rosso diretto a Scariolo, il raddoppio dello Sport in Via Grande, al settantaquattresimo con Contarino, ha di fatto chiuso la gara, col Giarra che non ha più avuto la forza di impensierire il portiere ospite Caruso. Il secondo stop consecutivo ha fatto scivolare la squadra del presidente Di Martino al decimo posto con 31 punti, mentre lo Sport in Via Grande, a quota 27, rimane quintultimo, ma allunga le distanze dalla coda della classifica. Nel prossimo turno di campionato sfida molto complicata per i gialloblu. Ad attenderli ci sarà infatti una sicura Leonzio, che avrà velleità di rivincita dopo l'ultima sconfitta contro il Rocca di Caprileone. Grazie.